La battaglia legale sul ricollocamento dei rifugiati approda in tribunale. Mercoledì si è tenuta la prima ed unica udienza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla richiesta di Ungheria e Slovacchia di annullare la decisione sulla ridistribuzione dei richiedenti esilo. Di fronte a centinaia di migliaia di migranti in arrivo sulle coste italiane e greche, il Consiglio dell'Unione Europea aveva deciso di alleggerire il carico ridistribuendo nuovi arrivati tra gli altri Stati membri. Ma Budapest e Bratislava rivendicano la loro sovranità nazionale. Secondo i due paesi, il Consiglio non era abilitato a prendere tale decisione che invece doveva essere riservata al Parlamento europeo. Finora meno di 20.000 persone sono state ricollocate da Italia e Grecia a fronte delle 160.000 previste dal programma europeo in vigore fino a settembre 2017. Di queste, circa 1.300 dovevano essere ridistribuite in Ungheria, la quale si dice disposta ad accoglierle se la Corte di Giustizia dovesse confermare la decisione del Consiglio E con una sentenza prevista nei prossimi mesi. Grazie. 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 Grazie.